Presentazione introduttiva del disco a stato solido per usi aziendali KC100. Questo disco a stato solido dotato di controller Sandforce e progettato per le aziende. Questo modello ha tempi di avvio ed esecuzione delle applicazioni ridotti ed è in grado di eseguire applicazioni complesse con maggiore rapidità. Il Drive KC100, utilizzato come unità cache per i dati a cui si accede con maggiore frequenza, riduce i colli di bottiglia causati dai dati in ingresso o uscita sulle workstation durante i processi di elaborazione più impegnativi. Inoltre, riduce i tempi di attesa nel caricamento delle applicazioni e dei dati destinati allo storage. L'unità KC100 supporta tutte le più comuni configurazioni RAID e ha funzionalità di protezione dati avanzate per l'affidabilità delle vostre esigenze aziendali e l'assenza di parti in movimento garantisce una maggiore durata per gli impieghi intensivi tipici degli ambienti workstation. Una soluzione ideale per applicazioni come CG, CAD, progettazione assistita da computer, progettazione meccanica, applicazioni B e tridimensionali e progettazione industriale tridimensionale, creazione di contenuti digitali, elaborazione di dati tecnici e scientifici, analisi finanziarie, produzione musicale e scienze naturali. Riducete i tempi di avvio delle vostre applicazioni, massimizzando le prestazioni e incrementando performance e affidabilità. Affidatevi ai dischi a stato solido per usi aziendali Kingston KC100.